Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questo piccolo video che vuole essere una specie di rant misto a consigli per i naviganti. L'indirizzo di posta elettronica al giorno d'oggi è fondamentale. Ci registriamo sui siti della banca, ci registriamo sui siti per trovare lavoro, per cercare casa, ci registriamo sui siti del nostro fornitore di servizi idrici, elettrici, del gas e quant'altro. PTV e tutto il resto. Ci registriamo anche su siti sconosciuti, magari su siti di dubbio gusto, siti vari, e diamo, forniamo il nostro indirizzo email. Accade però, spesso, che l'indirizzo email lo forniamo anche ad enti, a enti di formazione, scuole, carabinieri, è capitato anche questo. Chi più ne ha più ne metta, forniamo il nostro indirizzo email. Che succede? Succede che molte persone, quando vanno a dare l'indirizzo email, sbagliano. Sbagliano a dare informazioni sui propri indirizzo email e danno magari un indirizzo email associato a qualche altro. Questo può capitare perché il nickname è simile, la combinazione utilizzata per la registrazione della mail è simile, e quindi di conseguenza ogni qua volta sistematicamente c'è gente che va a fornire l'indirizzo email sbagliato. Fortunatamente molti siti, quelli seri, hanno un sistema di verifica dell'account, quindi quando ci registriamo su un servizio viene inviata una mail sull'indirizzo email che noi abbiamo fornito, dove ci viene chiesto, vuoi veramente attivare questo servizio, è stata richiesta l'attivazione di questo servizio, e noi possiamo confermare oppure no, ignorare la mail che quindi non proseguire con la registrazione. Però ci sono tantissimi siti fatti come sto cazzo, scusate il francesismo, che invece non fanno questo tipo di controllo, quindi se io posso mettere l'indirizzo di qualsiasi persona, mi registro con le credenziali di una qualsiasi persona, metto un indirizzo email di qualcuno che magari, o sbagliando in questo caso, o magari che mi sta sull'antipatico, quello si ritrova attivato il servizio e si ritrova con queste cacchie di mie di spam e quant'altro. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a un concetto chiaro che deve essere proprio stampato raccamente da tante persone, voi lo dovete proprio scrivere qua. Quando vi registrate sui siti, quando create una vostra indirizzo di posta elettronica, questo indirizzo di posta elettronica deve diventare come il vostro nome e cognome. Quando voi fornite la vostra generalità a qualcuno, vi chiamate Pinco Paglino? Dite che siete Pinco Paglino. Quando registrate una mail, e utilizzate quella mail per registrarvi a dei siti o dare informazioni per quanto riguarda enti o quant'altro, dovete dare l'informazione corretta. Non potete dare la mail di qualcun altro. Quindi la mail la dovete scrivere qua, la dovete memorizzare, perché è diventata una cosa essenziale. Deve essere come il nome e il cognome. Quando uno vi chiederà il vostro nome e cognome, subito rispondete. La stessa cosa dovete fare con l'indirizzo di posta elettronica. Non dovete dare l'indirizzo di posta elettronica sbagliato, perché poi rovinate la vita poveri cristiani che si ritrovano con spam, registrazioni a siti che non si riescono a cancellare, e si trovano ogni giorno a dover combattere con gente che dice Cioè, o ci si è registrato il suo sito, oppure infilano informazioni. Informazioni, registrazioni a siti che non sono volute, perché magari da qualche altra parte dell'Italia c'è qualcuno che ha sbagliato. E magari lo fa anche sistematicamente, perché ci sono alcuni casi umani, li chiamo io, di gente, che sistematicamente dà l'indirizzo sbagliato. Perché nella mente sua è convinta che quello sia l'indirizzo suo corretto, e sistematicamente dà sempre l'indirizzo sbagliato. Ve lo ripeto, quando vi registrate, quando create un vostro account d'indirizzo di miei, memorizzatelo, scolpitelo nella testa. E se non avete buona memoria, perché succede? Scrivetevelo da qualche parte, appuntatevelo. Se non avete buona memoria, lo sapete che non avete buona memoria, prima di dare l'indirizzo, dite aspetta, fammi controllare un secondo. Perché? Perché sennò poi si creano questi tipi di disservizi, questi fastidi agli altri utenti, e gli altri utenti poi si rompono le scatole, a dover stare lì sempre a cancellare mail, a cancellare spam, a fare segnalazioni e chiedere la rimozione dei propri dati dai siti e quant'altro. Quindi, fate un favore a voi stessi, perché poi così perdete anche, per esempio, le occasioni vostre. Se vi registrate su un trovo lavoro, date un indirizzo e-mail sbagliato, le proposte di lavoro arrivano all'altra persona, non arrivano a voi. Quindi voi rimanete senza lavoro. Se lo fate su un'agenzia immobiliare, le proposte di acquisto e di vendita, a chi arrivano? Arrivano solo a me che avete sbagliato a dare. Quindi voi rimanete così. L'altra persona, al contempo, si ritrova tutto esse carchio di mail di spam, che dice, oh, è una rottura di coglioni, perché uno si dà fastidio. Scusate, ha trovato il francesismo, ma oggi sto proprio nervoso, perché io sono una di quelle vittime, proprio sembra che il destino oramai sia accanito contro di me. sono un paio d'anni che continuano a ricevere email di gente che sbaglia sistematicamente. Da tutte le parti d'Italia, non c'è stato solo uno. Ho contato tantissime persone che sbagliano a dare indirizzo di posta elettronica. Quindi, ripeto, create il vostro indirizzo di posta elettronica, createvene uno semplice da ricordare, stampatevelo nella testa. Quando date, quando digitate l'indirizzo di posta elettronica per registrarvi a qualche sito, ricordatevi, siate sicuri che sia quello, confrontate sempre. Quando andate off-kind, nella vita reale, e vi chiedono i vostri indirizzi di mail di scriverlo per essere contattati, anche in quel caso, leggete bene, è questo quello che vi indirizzo di mail è il mio? Sì o no? Perché poi sbagliate, perdete occasioni e rompete le scatole d'altro. Ciao ciao. Ciao. Grazie.